Questa unità didattica è dedicata alla gestione dell'input-output fatta tramite Prolog. Si tratta di una parte che non è fondamentale all'interno dell'insegnamento di un linguaggio di programmazione dichiarativa perché la gestione dell'input-output, essendo un'azione che viene compiuta o verso l'input, quindi ricezione di byte che vengono da una periferica o verso l'output, quindi mandare dei byte verso una periferica, è un'azione che viene fatta nel mondo reale, nel tempo, nello spazio, in qualche maniera e quindi non è chiaramente un'operazione di matching, di goal all'interno di una procedura di risoluzione e quindi non può essere in particolar modo un'operazione che può essere ritrattata all'interno di un meccanismo di backtracking. Quindi in pratica andiamo a introdurre all'interno di un paradigma della programmazione dichiarativa delle operazioni di carattere procedurali. In realtà proprio quello che accade è un attachment procedurale. Lo spiego fra un attimo con un esempio concreto per cercare di spiegarmi bene cosa significa attachment procedurale. Comunque, appunto, la gestione dell'input-output in Prolog è molto semplice. Quello che vedremo sono i predicati built-in di qualunque implementazione Prolog che fanno parte del cosiddetto standard di Edimburgo. Predicati simili ma più potenti possono essere implementati da vari tipi di Prolog. Per esempio, lo sguai Prolog ne ha altri dei più potenti. Comunque, né quelli che non sono oggetto di questa unità didattica, né questi che invece sono oggetto di questa unità didattica saranno argomento d'esame, in quanto che non sono parte, diciamo, specifica della, ripeto, della programmazione dichiarativa, però ovviamente saranno importanti per fare gli esercizi. Allora, il Prolog, l'interprolog è scritto in C e quindi gira sul sistema operativo e quindi condivide quelle che sono le impostazioni generiche per quanto riguarda la gestione dell'input-output di qualunque sistema operativo e del C in particolare. Quindi ci sono due stream standard di input-output che normalmente sono identificati con le periferiche tastiera e console all'interno del sistema operativo e sono entrambi per default, lato Prolog, associati al cosiddetto utente user. Però, come vedremo nella parte finale di questa unità didattica, si possono gestire anche stream multipli all'interno del Prolog. Dunque, abbiamo detto che la gestione dell'input-out in Prolog è molto semplice, viene gestita da predicati che sono mnemonici, ovviamente, per esempio write, il primo che stiamo vedendo, serve anche per mandare dei byte su una periferica di output, in questo caso appunto per default il terminale, write, red, vedremo, quindi la struttura sarà molto semplice. Partiamo appunto da questo, write, che cosa fa? Prende un solo argomento, come vedete, c'è un solo argomento e deve essere un termine, un termine secondo la sintassi del Prolog. Quindi, per esempio, qui abbiamo che C è una costante atomica, è anche un carattere, però sarebbe, se fosse, qui è in realtà è una costante atomica, U underscore 1 è una costante atomica, 8 è una costante atomica numerica, R è un'altra costante atomica. Se diamo questi quattro gol in successione, quello che viene scritto sul terminale è esattamente la sequenza senza interruzione degli atomi che abbiamo mandato. Essendo comunque, ovviamente, il Prolog, il Prolog interpreta questi qui come dei gol e alla fine risponde yes perché è riuscito a dimostrare ciascuno di questi quattro gol. In pratica, quello che dicevo prima accade è che stiamo camuffando un'operazione procedurale come se fosse un lancio di un gol. Qui viene lanciato il gol write C, però in realtà quello che accade non è che si va a cercare la testa di una clause programma definita che abbia come predicato write e con cui questo qui posso unificare, cioè tutto quello che accade con l'SRD Resolution. Quello che accade invece è una specie di sofisticazione, cioè una truffa. Quello che accade è che in corrispondenza del lancio di questo gol write C parte una procedura, anzi una funzione scritta in C che ha lo stesso nome write di questo gol e che ha una funzione booleana che quindi può restituire vero o falso. A questa funzione gli si passa l'argomento, in questo caso l'argomento C, quindi una funzione che ha un solo argomento e questa funzione cosa farà? Se l'argomento che gli si passa è una costante, è un termine ground, prende quel termine e lo elabora. in questo caso semplicemente fa partire un caut, quindi lancia, passa l'argomento che gli abbiamo passato alla periferica di output, quindi verrà scritto sul terminale e poi se tutto è andato bene, quindi se lo stream era aperto, se non ci sono stati problemi, riservisce true, simulando così l'aver unificato con la testa di una clausola fatto che avesse, come predicato write, è come se l'avesse unificato con un write C, però ha unificato con un write C e quindi risponde yes, però ha anche scritto, compiuto l'azione fisica di scrivere sul terminale l'argomento che gli è stato passato, questo era una costante. Se invece gli passiamo come argomento una variabile, lo stiamo per vedere nei prossimi esempi, quello che accade è che la funzione scritta in C cerca di prendere questa variabile che gli viene passata per riferimento e di dargli un certo valore. Il valore che gli viene dato viene trattato come se fosse il risultato di un binding, cioè di un'unificazione fatta di nuovo unificando con la testa di una clausola. Quindi in pratica si gestisce un'operazione procedurale come se fosse il risultato della unificazione del goal con la testa di una clausola, però in realtà a ciò corrisponde l'aver compiuto un'azione nel mondo reale. Quindi, in quanto tale, questo predicato non è ritrattabile su backtracking. Quindi, in pratica, dopo che, per esempio, il right C, supponiamo di lanciare il goal right C, invece questa roba qui fail, quindi facciamo fallire. Cosa succede? Che il predicato fail provoca il fallimento. Si tenterebbe di risoddisfare right C, ma right C non può essere risoddisfatto, per cui fallirebbe e si tornerebbe all'eventuale goal che c'era prima, ma in questo caso non c'è niente. Quindi, in pratica, se noi scriviamo right C, virgola fail, invece questa roba qui, viene scritto C sull'autoput e poi invece che di essere scritto false. Qui il right gli diamo un termine che è una lista e quindi viene scritta la lista. Se il right accetta un solo argomento, e in particolare quindi questo argomento deve essere un termine, questa roba qua, hello world, con lo spazio in mezzo non è un termine, quindi c'è un errore di sintassi. Se mettessero tutto hello world all'interno di una coppia di apici, tutto quanto verrebbe considerato come se fosse una costante, viene un termine costante, viene scritto come tale sull'output. semplicissimi predicati di formattazione sono il new line senza argomenti che provoca l'andata a capo, il tab con un argomento che rappresenta il numero di spazi che devono essere stampati, per esempio write A, tab 3, write B, new line, scrive A, poi tre spazi, poi B e poi va a capo. Qui abbiamo un altro esempio, ci sono 1, 2, 3 variabili giorno, mese ed anno che vengono distanziate nei gol precedenti e poi si lancia write A, e gli si passa la variabile, la variabile a questo punto è stata distanziata, per cui in realtà quando viene chiamata la funzione write, gli si passa non la variabile A, ma gli si passa il valore 0 qua, la costante 0,4. una cosa interessante è che day 0,4 lo 0 viene tolto, perché il prelogo automaticamente considera 0,4 come se fosse un intero e quindi lo 0 viene messo, comunque viene stampato tutto come normale. Alternativamente al write che manda sull'output un termine, possiamo mandare sull'output singoli asci, caratteri asci, oppure anche caratteri UTF-8, unicode, a seconda di come è settato l'interprete prologue e il sistema operativo anche per quanto riguarda il set di caratteri. Comunque l'effetto è sempre lo stesso, put sostanzialmente c'è un solo argomento che prende un numero intero che rappresenterebbe i codici asci, oppure ripeto UTF-8 del carattere da stampare, l'effetto è che viene stampato quel carattere lì sullo schermo. Quindi niente di particolarmente significativo, se non che come argomento del put gli possiamo dare anche una espressione aritmetica, con tanto di variabile, l'effetto sarebbe che viene prima valutata l'espressione aritmetica come abbiamo visto in una unità didattica precedente, e il risultato essendo sempre un intero viene interpretato come codici asci, dopodiché l'effetto è quello di stampare in output il codice asci, l'asci corrispondente a quel codice, il carattere asci corrispondente a quel codice. Di nuovo anche questa qui è un'azione che si fa sul canale di output per cui non è ritrattabile. Se il backtracking dovesse tornare la prima volta a successo è compilazione, se il backtracking dovesse tornare sullo stesso atomo, lanciare lo stesso atomo, si avrebbe semplicemente fallimento. Per stampare, mandare in output una lista di termini o di caratteri, semplicemente possiamo il write, lo possiamo mettere all'interno di un predicato ricorsivo che gestisce tutta la lista, come abbiamo già imparato a fare in esercizi precedenti. è importante capire che si può modificare lo standard output direttamente da prologue. E quindi come si fa? Si fa con un predicato che si chiama tel, tel a cui con un solo argomento che possiamo dare come argomento o una variabile che si intende che prima sia stata istanziata a una costante che rappresenta il nome percorso, una stringa che rappresenta il nome percorso, oppure gli diamo direttamente la stringa nome percorso. Di che cosa? Nome percorso di un file che da quel momento in poi sarà utilizzato come canale di output al posto dello standard output. Per sapere qual è l'output corrente standard, lo stream output standard, si usa il predicato di sistema telling con un argomento che è una variabile che viene istanziato al nome dell'output standard che si sta utilizzando in quel momento, fate pure la prova. In pratica quello che accade è che questi due predicati, in particolare tel, questo predicato tel, quando viene chiamato la prima volta ha l'effetto semplicemente di modificare l'output standard e così facendo quindi si può andare a scrivere su un file, quindi sul file system, sulla memoria di massa piuttosto che su una periferica di output. Ma quello che è importante capire di nuovo è che questa è una chiamata a una procedura del sistema operativo, quindi la prima volta che viene effettuata ha effetto, da quel momento in effetto è come se fosse stato un gol che ha avuto successo e si passa al gol successivo. Se per backtracking si dovesse ritornare qui, questo qui non è che viene cancellato, ritrattato, non è che da quel momento in poi, nel momento che si ritorna sul backtracking, a questo punto non è più vero che l'output standard è quello che corrisponde a quel nome percorso. No, quello rimane vero perché non è risoddisfacibile né ritrattabile. Quindi fallisce, si tornerebbe eventualmente all'atomo che sta più a sinistra, ma insomma rimane vero che siccome era stato compiuto una volta, era stato lanciato il gol tel con quel file name, l'output rimane quello. Per interrompere ciò, per esempio per tornare al vecchio output standard, bisogna proprio lanciare un altro gol che potrebbe essere o un altro tel con un altro nome di file, e a questo punto l'output standard non sarà più il vecchio file 1, diciamo così, ma sarà il file 2, oppure si lancia il gol da qualche parte, told, che significa ok ho finito di considerare quel file come output standard e quindi si ritorna come output e quindi si ritorna al canale di output standard normale, cioè ho finito di scrivere su quel file e quindi adesso torniamo a considerare la console come normale output. ecco quindi, ricapitolando, tel per cambiare l'output, lo stream di output. Tel non è risoddisfacibile, per cui per tornare è né ritrattabile, per cui per ritornare all'output di prima dobbiamo lanciare un gol, told, oppure possiamo lanciare un altro gol tel, indicando un altro file, automaticamente il file di prima non è più considerato stream di output, verrà considerato il nuovo file. Quindi qui abbiamo degli esempi, write, questa roba qui dove viene scritto, viene scritto sul terminale di output. Se io lancio telling, con una variabile mi risponde che ok, lo stream di output è quello legato all'utente e quindi normalmente è considerato il monitor. Adesso io lancio tel, supponendo che esista una sotto directory demo della directory dove sta girando questo programma, qui c'è una directory standard che si può settare con il predicato working directory. In questa directory standard, la directory corrente, c'è una sotto directory demo, supponiamo che lanciamo questo gol, tel, demo, test, viene o creato o sovrascritto, se c'era già, un file che si chiama test all'interno della directory demo e quindi questo ha successo, punto e basta. Se io adesso lancio telling di nuovo, mi dice guarda che l'output standard adesso è un file test dentro la directory demo. Ok, se io lancio adesso un write, questo non viene scritto sull'output, ma viene scritto dentro il file test. Potete fare questa verifica, però non vedrete scritto questa cosa qui dentro il file test fin quando non scrivete told. Quando lanciate il goal told, il file viene chiuso e tutta questa roba che era stata temporaneamente depositata un buffer viene effettivamente scritto all'interno del file test. Se poi... e lo potete andare a vedere a questo punto. Se poi lanciate write di nuovo con qualche altra cosa e questo qualche cosa che passate al write lo avete scritto di nuovo sulla console, perché avendo lanciato il goal told, quel canale di output è stato chiuso e quindi siamo tornati all'output standard. La situazione è perfettamente simmetrica lato lettura, lato input. Là c'era il write e qui abbiamo il read. Il write scriveva termine, il read legge termini, però mentre il termine che lanciavamo in output era passato proprio come argomento al write e qui il termine della legge è scritto per default dalla tastiera, quindi abbiamo bisogno di una convenzione per dire al prologo quando abbiamo terminato di scrivere il termine che dovrà essere letto. E questa convenzione è il punto. Quando noi mettiamo un punto, un full stop in inglese, allora il punto viene ignorato e tutto ciò che avevamo battuto prima viene interpretato come se fosse... si cerca di interpretarlo, il prologo lo interpreta come un termine se la sintassi è corretta, altrimenti d'errore. E se quello che abbiamo scritto è un termine lo associa alla variabile che abbiamo passato al read. Facciamo un esempio. Noi scriviamo ad esempio what's your name, andiamo a capo, poi red x, e poi un'altra scritta, e poi scriviamo anche x. L'effetto di questi goal lanciati è questo qui. Viene scritto what's your name, dopodiché si va a capo, ecco il read, provoca la sospensione dell'attività, per cui l'interprete si mette in attesa che venga compiuta un'azione sulla periferia di input. Adesso supponiamo che l'utente batta dalla tastiera le lettere T, I ed M, e poi il punto. Il punto serve a significare che è stato... ha terminato di scrivere il termine che vuole immettere dentro la lettura, e quindi a questo punto la sequenza di questi tre caratteri asci viene rappresentata come una costante atomica e questa costante atomica viene associata alla variabile x. Quindi x viene fatto il legame fra x e T. A questo punto parte questo write, greetings, e poi viene scritta il valore della x con una write che è team. E poi anche essendo questo un normale goal prologue alla x viene associato appunto il valore team. Questa è la red e se noi lanciamo una red con una variabile e poi scriviamo qualche cosa in input concluso da un full stop che non può essere interpretato come un atomo, non può essere perché c'è uno spazio, allora abbiamo errore di sintassi. Se usiamo... abbiamo bisogno di passare un qualche cosa con lo spazio come costante atomica e la dobbiamo racchiudere fra... all'interno di una coppia di apici. Se la racchiudiamo all'interno di una coppia di doppi apici il sesso sprologue interpretava la cosa come se noi volessimo non già rappresentare... non già considerare la sequenza di caratteri asci come una... la specifica di un atomo, di una costante atomica, ma lavoriamo a considerare con... come una lista di... di... una lista di codici asci che corrispondono ai caratteri che abbiamo passato. In realtà lo svuoi prologue non fa così, potete fare la prova, perché in realtà lo svuoi prologue utilizza un altro predicato built-in molto importante del prologue che è il name. Il name è un predicato built-in che ha due argomenti. Il primo argomento si intende essere una costante atomica, il secondo argomento si intende che sia una lista di codici asci che sarebbero i codici asci che corrispondono alle lettere con cui è identificata quella costante atomica. Per esempio, se io lancio il predicato name passando in una costante atomica e dandogli una variabile come secondo argomento, questa variabile viene istanziata ad una lista che è la lista dei codici asci dei caratteri che ho utilizzato per rappresentare quella costante atomica. Ma questo può essere anche usato al contrario, nel senso che io posso lanciare il name dandogli a primo argomento una variabile e passandogli al secondo argomento una lista di codici asci. In questo caso quella variabile verrebbe istanziata ad una costante atomica costituita esattamente da quella sequenza di codici asci che io gli ho passato al secondo argomento. In pratica, ecco, il name converte una lista di codici asci in un termine prolog, una costante atomica e viceversa. Il name è molto utilizzato all'interno dei programmi prolog. Come avevamo il put, write put per scrivere termini o caratteri, write termini, put caratteri sul canale di output e così abbiamo in fase di lettura abbiamo il get, il red per leggere termini e il get per leggere caratteri. In realtà di get ce ne abbiamo due, abbiamo il get 0, il get e il get normale. Entrambi hanno un solo argomento e entrambi stanno a specificare che stiamo a leggere non un termine dal canale di input ma un singolo carattere, quindi non c'è bisogno, anzi non si deve terminarlo con il punto. Tipicamente vengono utilizzati non tanto per leggere il tastiera ma vengono utilizzati per leggere da file carattere per carattere. La differenza tra il get 0 e il get è che il get schippa gli spazi e invece il get 0 riprende. Quindi qui abbiamo delle chiare evidenze del fatto che queste funzioni, queste procedure, queste funzioni sono implementate in C e abbiamo la stessa differenza che avevamo in C++ fra l'estrattore che sarebbe quello che viene utilizzato per implementare il get e la la funzione proprio get che è quella che viene implementata del chip e viene utilizzata per implementare il get 0. Come potevamo modificare lo standard output con il predicato tel? Così possiamo modificare lo standard input con il predicato si. Si fa il name o si tutto questo nome percorso hanno l'effetto di modificare lo standard input. Di nuovo questo predicato è un predicato come tutti quelli che abbiamo visto in questa unità didattica procedurale e quindi viene soddisfatto la prima volta e ha l'effetto di modificare lo standard input. Dopodiché se il bet tracking dovrebbe tornare su di lui non è risoddisfacibile quindi fallisce e comunque l'effetto di aver modificato standard input non viene ritrattato. Per vedere qual è lo standard input di là avevamo il telling per vedere qual è lo standard output. Qui abbiamo il sing e se lanciamo il sing con una variabile come argomento ci restituisce come istanziazione di quella variabile qual è lo stream di input aperto in quel momento. Per modificare lo standard input quindi non essendo ritrattabile l'operazione dobbiamo esattamente in parallelo come abbiamo visto nel caso del tel o fare un altro si associando quindi utilizzando quindi un altro file come standard input oppure lanciando il predicato sin senza argomento così facendo si chiude quel file come standard input e si ritorna allo standard input normale cioè la tastiera. Quindi per esempio supponiamo di avere un file colors che contiene questi termini big blue punto tickle pink punto red mist punto e lanciamo questo goal composto e cioè prima lanciamo sì associando l'input a questo file e poi lanciamo tre red in pratica red x red y red z la x verrebbe istanziata a big blue la y a fickle pink e la z a red mist. Quindi di nuovo vediamo qui l'effetto procedurale perché praticamente red x cosa fa? mi sposta il puntatore dal file del file prima era sulla b all'inizio e poi me lo porta sulla t me lo porta sulla t per cui quando viene lanciato di nuovo un red non viene riletto di nuovo big blue ma viene riletto a partire dalla nuova posizione del puntatore sul file quindi questo fa capire ancora di nuovo che è stata completata proprio l'azione nel mondo fisico lo spostamento del puntatore sul file che non può essere trattata. Se ci fosse un fail qui alla fine questo red fallirebbe questo red fallirebbe questo red fallirebbe e fallirebbe anche questo qui alla fine avremo semplicemente scritto yes allora tutto ciò continua fin quando non viene incontrato l'end of file oppure fin quando non viene... se viene incontrato l'end of file la variabile che abbiamo passato al red viene associata con l'end of file e anche successivi red verrebbero sempre associati con l'end of file tutto quello che abbiamo visto fino adesso ci consente di avere aperti un solo stream alla volta ma il provo consente di gestire più stream contemporaneamente e quindi abbiamo un cosiddetto input out basato sugli stream sia per l'input che per l'output per fare questo si utilizza un altro praticato di sistema che è open che ha tre argomenti il primo argomento specifica il nome del file, il secondo argomento la modalità se apriamo quello stream in lettura o scrittura o in append il terzo argomento rappresenta il nome dello stream per esempio open demotest append stream questo qui che cosa fa? genera uno stream associato alla variabile stream in modalità append e quindi ci si andrà a mandare caratteri che verranno appesi allo stream quindi non verrà sovrascritto il file associato a questo stream e nel primo argomento il nome del file associato allo stream in pratica questa chiamata qui di questa open aprirebbe il file test all'interno della direttori demo in modalità append associando allo stream stream a questo punto noi dobbiamo utilizzare dei nuovi predicati per con un argomento in più vedremo write e read per scrivere su questo stream intanto per andare a vedere qual è lo stream corrente possiamo usare current input e current output poi dopo dobbiamo utilizzare come dicevo read e write per andare a leggere o scrivere su questi stream però read e write non più con un solo argomento ma con due argomenti perché il primo argomento che viene passato sia il read che il write rappresenterà lo stream su cui mandare o da cui leggere il secondo argomento per esempio se apro un file file 1 associato allo stream file 1 in lettura io poi posso usare read con due argomenti dicendo di mandare il termine che verrà letto dallo stream file 1 di associarlo alla variabile x al tempo stesso in maniera speculare write lo posso usare se ho aperto un file per esempio file 2 in modalità scrittura associandolo allo stream file 2 e il write con due argomenti cosa farà mi prenderà il secondo argomento ciò che passa al secondo argomento me lo manderà sullo stream file 2 in questa maniera quindi io posso aprire più stream contemporaneamente e utilizzando il write con due argomenti mandare in scrittura su questi vari stream che sono aperti in contemporanea al tempo stesso posso leggere da vari stream in contemporanea anche gli altri che abbiamo visto per la formatazione c'è newline che non aveva argomenti adesso ce n'è a uno sarebbe lo stream su cui si vuole andare a capo il tab non aveva un solo argomento il numero degli spazi adesso ce n'è a due perché un argomento serve per identificare lo stream e anche il get ce n'è a due il get 0 ce n'è a due e il put pure ce n'è a due per chiudere uno stream si usa semplicemente la primitiva close quindi questi sono i predicati built in che abbiamo visto sono quelli che utilizzeremo negli esercizi anche in sede d'esame sono quelli comuni a tutte le implementazioni prolog standard in conclusione vediamo un paio di programmi qui abbiamo un programma lo vedete e quindi potete fermare adesso qui il video e quindi vedere con camera per conto vostro questo programma che legge caratteri da tastiera fino a quando viene battuto un punto e con i caratteri immessi da tastiera genera una lista questo è una modalità classica di interagire con il con il lo standard con una periferica di input con un canale di input prendendo quindi tutto ciò che viene immesso o letto da quel canale di input prendendolo e mettendolo all'interno di una stringa di una lista chiedo scusa che poi verrà processata successivamente questo modo di lavorare utilizza la ricorsione perché c'è qui il predicato formalista che chiama a se stesso però questo modo di lavorare in generale che è riassunto in questo predicato schematico può portare a un consumo di memoria perché le chiamate ovviamente ricorsive fanno aumentare lo stack se non sono intera regression fanno aumentare lo stack fanno crescere lo stack e quindi ben presto porteranno a una stack overflow c'è uno schema di questo genere in cui c'è un qualche predicato che legge dall'input poi va a vedere se ciò che va a processare ciò che è stato letto in particolare per vedere se è l'ultima cosa che doveva essere letta e quindi deve terminare il processamento delle cose da leggere poi ci fa qualche cosa e poi richiama a se stesso certamente questo qui va a consumare risorse dal canale di input però va anche a far crescere lo stack e in effetti quello che cosa succede cosa succede per esempio che se io ho considerato come termine di fine lettura una costante stop allora lancio il programma se io scrivo ruota prende ruota se io scrivo prova prende prova se io scrivo stop il programma termina e non fa più niente nel frattempo tutto ciò che avrei scritto prima ruota prova eccetera sarà stato immesso per esempio dentro una lista non in questo caso nel caso presente viene immesso in una lista e poi viene eventualmente processato ok tutto funziona però consuma la memoria un modo alternativo quello più utilizzato in effetti è fare la stessa cosa utilizzando un loop guidato da fallimento in pratica quello che succede è questo lanciamo questo nuovo programma che va a fare le stesse cose di quello di prima cioè legge dall'input e processa fino a quando non viene trovato sull'input un atomo arbitrariamente scelto come atomo di fine lettura per esempio di nuovo stop però la struttura è diversa perché non è ricorsiva ecco zero come vedete non è ricorsivo c'ha due predicati e due clausole una che semplicemente va a leggere se è stato battuto l'atomo di fine lettura in questo caso non fa proprio niente se non mette il cut per far sì che non sia risoddisfacibile e quindi lo distingue sostanzialmente lo disgiunge disgiunge questa clausola dalla seconda la seconda invece scrive ciò che è stato passato a eco zero e poi c'è il fallimento un new line va bene poi c'è il fallimento cosa succede? che il fallimento fa sì che eco zero fallisca e quindi il red a questo punto non è più risoddisfacibile si va al repeat il repeat è scritto in questa maniera è implementato in questa maniera repeat è scritto su un è un predicato che ha due clausole in una c'è semplicemente repeat punto e nell'altra c'è repeat se repeat punto e quindi è un predicato che ha due clausole una che è il tappo della ricorsione una che è ricorsiva su se stessa che è interrecursion e quindi può essere e viene immediatamente implementata come un'interazione e quindi non consuma lo stack di fatto così facendo questo repeat il repeat risuccede di nuovo per cui viene fatto un altro red viene di nuovo letto dall'input viene riprocessato ciò che è letto poi si fallisce il red non può essere risoddisfatto si va al repeat il repeat è risoddisfatto quindi c'è una nuova lettura e così via all'infinito all'infinito senza occupare lo stack per cui il modo in cui si gestiscono le letture dai canali di input senza andare a occupare la memoria lo stack è questo qui sostanzialmente si utilizza un loop guidato da fallimento questo è in pratica lo schema generale per una lettura da una periferica di input che contenga un numero anche infinito di termini da leggere questa modalità di lettura non procurerà mai uno stack overflow con questo termina la unità didattica dedicata all'input-output la prossima sarà dedicata alla gestione del database base